ventuno cari amici ben ritrovati a tutti voi da Manuel Manconi e tutto il pazzo staff di Forza Lazio Web TV e a inizio in questo istante Lazio Locomotive Muscavo. Felipe Felipe se ne vai alla grande entra in aria Felipe Felipe mamma mia ma com'è possibile la palla da Lazzari che scala libera sera pronto Immobile col colpo di testa adesso comincia per lì Salberto sulla destra che aziona Lazzari Lazzari lascia a Felipe Anderson e la vita scambio magnifico Lazzari vola a rete rigore Lazzari Lazzari vale mezzo no no ha dato la palla tra le braccia del portiere Immobile la prima chiamata ma c'è il break da Yusei che ruba palla di lancio del portiere avversario Yusei limite l'aria di corre palla per Ciro Immobile Ciro Immobile Pedro Pedro la palla attenzione Luisa Alberto tiro fuori l'avevo vista dentro gran bella Lazio ragazzi ancora segnali molto incoraggianti di gran bella Lazio palla accettaria no buca il portiere colpo di testa Immobile che la sbatte a terra e la palla poi va fuori incredibile per lui Salberto felipe Anderson felipe 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 monta l'uomo felipe felipe il cross buono la la difesa la manda via ragazzi felipe Anderson l'uomo felipe Anderson a rete rigore il azione da Cine Teca della Lazio azione da Cine Teca della Lazio ragazzi felipe Anderson gli ha fatto niente mal di testa prima la perde poi la recupera prende palla la da Pedro sgomita la protegge la butta in mezzo e Toma Basic di testa in tapin entra in porta grande gol della Lazio subito in vantaggio Toma Basic inserimenti ricordate questo connubio ragazzi Lazio in vantaggio che Lazio ragazzi che Lazio che Lazio ragazzi miei per lunghi tratti si vede una Lazio meravigliosa ragazzi scusate Lazzari Lazzari se ne va come un treno Lazzari la Lazio è devastante Lazzari a rete rigore la palla e mezzo e la ritiro al volo fuori Ciro Immobile in mezza rigirata al volo la manda fuori ma che Lazio è che Lazio è ragazzi Lazari avvelenato sembrava felipe Anderson fantastico fantastico dai Lazio continua così azione bellissima palla fuori di un soffio girata spettacolare sforbiciata al volo di Ciro Immobile ragazzi che spettacolo ragazzi ed ecco felipe Anderson che intercetta l'ennesima palla si mette a testa bassa uno contro tutti se ne va felipe Anderson se ne supera un'accelera ne supera il seconda felipe Anderson palla e mezzo mamma mia ragazzi mamma mia felipe Anderson devastante devastante felipe Anderson lui salverto lui salverto lui salverto andata a biancazzura lui salverto immobile stop tira oh palla fuori di un soffio palla fuori un soffio Lazio vicinissima al due a zero ragazzi perché la Lazio ha energia nelle gambe sprigiona energia e reattività nelle gambe una cosa bellissima venti minuti ventuno minuti di Lazio fa boh lo sa ventitresimo minuto se stava tre a zero non aveva rubato nulla c'è un po' morbida la felipe Anderson riprende palla si mette in moto e supera uno supera due felipe Anderson è inesistibile vola vola poi si ferma rientra scarica per lui salverto mamma mia felipe Anderson mamma mia felipe Anderson ciro immobile ancora per felipe Anderson felipe felipe esalta uno due ne esalta due sistematicamente al felipe di salverto tiro fuori mamma mia che Lazio che felipe Anderson è il nove in pagella per ora per felipe Anderson credo che attenzione che non siano delle domotip attenzione attenzione felipe Anderson felipe Anderson vede il tiro miracolo del portiere felipe prova a piazzarlo il portiere si distende la sua testa e la butta in angolo felipe Anderson praticamente da fermo si è inventato un tocco di piatto di piatto all'angolino giocata strepitosa ragazzi strepitosa di Bregi Anderson per Cataldi palla sul portiere allora spizzata di Acerbi ma udite udite secondo me l'ha messa in porta Patrick andiamo a rivedere l'avevo detto che volevo il secondo gol prima della fine del primo tempo ed è arrivato vediamo un po' calcio ad angolo vediamo un po' credo sia Patrick l'autore del gol ragazzi e bene si proprio lui Luis Alberto angolo spizzata da Acerbi Patrick al cento per cento gol di Patrick ragazzi gol di Patrick attenzione perché Pedro attacca lo spazio vediamo se gli usano che poi gli si ferma Pedro per riceverla ecco che la prende Pedro mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia il tiro ma come cazzo attenzione felipe Anderson il suo tiro no no Murici ma come fai a mangiare a testico e c'ha ragione felipe cazzasse ma dai Murici si è mangiato un gol incredibile Pedro per felipe Anderson che l'appoggia per Murici il piattone dei Murici ma dai cavolo attenzione perché mo c'è lazza di fuori ruolo felipe Anderson il recupero mamma mia che ha fatto felipe che cosa ha fatto felipe Anderson ragazzi un'accelerazione incredibile incredibile ragazzi felipe Anderson è quello che ha fatto no mamma mia felipe Anderson non sta in attacco due contro due felipe Anderson felipe 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 l'appoggia fuori basi scarica per pedro 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 se sono cartati se sono cartati troppo altruista però pure felipe Anderson e tira in porta ragazzi ha fatto un riviegamento ha visto l'azzeri che non riusciva a rientrare ha messo la marcia felipe Anderson ha rimontato tutti ha rubato palla all'avversario stratosperico ragazzi stratosperico felipe Anderson salta l'uomini facili facili la palla buona milinkovic no alta ragazzi felipe Anderson non ci credo felipe Anderson è incredibile ragazzi guarda che ha fatto che aveva fatto ha sbagliato il cucchiaio ha sbagliato milinkovic attenzione ma non si dice proprio al pallonetto niente ragazzi in altre occasioni mangiare alla Lazio non so più che 20 tiri in porta della Lazio non so più cosa dire ragazzi troppa sufficienza sottoporta ma in questo caso efficace cazzarola palla per Raul Moro Raul Moro Raul Moro Raul Moro Raul Moro Messo giù ragazzi era calcio di rigore sembrava avesse preso più palla ma era calcio di rigore grande come una capanna per favore della Lazio per farlo su Raul Moro ma com'è possibile non ha dato sto rigore e finisce qua ragazzi finisce qua la Lazio si porta si porta si porta a casa una vittoria senza mai averla messa in dubbio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.